Buongiorno guaiò e bentornati su questo nuovo e brevissimo video del Darion Oggi ragazzi è il 24 dicembre, carico questo video semplicemente per dirvi giusto tre cose Allora, prima di tutto ovviamente io auguro a tutti voi una felice vigilia, un felice Natale e un felice Santo Stefano Mettiamoci dentro anche Santo Stefano, godetevi queste tre giornate ragazzi, svuotate la mente da qualsiasi cosa Mangiate, mandate affanculo le diete, tanto per le diete ci sarà tempo l'anno prossimo Quindi veramente vi auguro delle buone vacanze di Natale E approfitto anche per dirvi che durante questi tre giorni, ovvero oggi 24, 25 e 26 sul canale non usciranno video Anche perché io non avrò possibilità di registrare perché tra varie cose, comunque non starò a casa, ci saranno i parenti Comunque voglio godermi queste vacanze un po' in famiglia e spero che voi lo facciate anche con le vostre se avete possibilità Quindi noi sul canale ci riaggiorniamo il 27, il 27 dicembre, vi dico già che il 27 probabilmente uscirà l'ottavo episodio della carriera su Football Manager E se durante questi tre giorni ci saranno qualche notizia legata a Napoli, magari poi ne parliamo con calma dopo Santo Stefano Quindi io chiudo quel video, è stato un video brevissimo giusto per farvi questa comunicazione di servizio E quindi niente signori, io vi rinnovo i miei auguri di buon Natale e mi raccomando mangiate Non fate i tirchi pure col cibo, ma devo fare la dieta, a Natale non si fa la dieta, questa è una regola base Quindi mangiate, non vi preoccupate e noi signori ci vediamo il 27 qui sul canale Buon Natale ragazzi Buon Natale